Prodettore Morelli, lei è coordinatrice della parte di scienze del progetto linceiano, quindi promosso dall'Accademia dei lincei nel polo Sardegna. Come nasce l'esigenza di promuovere anche l'insegnamento e la didattica delle scienze e quali sono gli obiettivi del corso per come l'avete pensato? Si, si sente sempre di più il bisogno di far conoscere la scienza e le scienze e quindi non solo è necessario interagire con gli studenti che naturalmente devono essere informati e studiati su tutto quello che c'è di nuovo in ambito scientifico, ma è estremamente importante anche prendere in considerazione quello che è l'insegnamento e quindi gli insegnanti. L'Accademia dei licei, con questo progetto, una nuova didattica, ha proprio deciso di prendere in carico l'insegnamento delle scienze, vari aspetti delle scienze, per far sì che i docenti delle scuole superiori di primo e di secondo grado possano essere aggiornati su quello che sta succedendo di nuovo nei vari ambiti della scienza. Grazie. Grazie. Grazie.